Siamo pronti in qui in studio per una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo delle misure emergenziali contenute da ultimo nel decreto agosto, così importanti soprattutto in questo periodo di ritorno dell'emergenza sanitaria. Parleremo quindi delle novità per le imprese, grazie ai nostri ospiti. Bene, allora a tra poco. A tra poco.